Ecco le barche a remi allineate in Mar Grande alla partenza della ventitresima edizione del Palio di Taranto. È una gara tra vogatori appartenenti ad ogni rione della città, un appuntamento che è ormai tradizione in due tornate. Questa che vedete è la prima tornata in occasione dei festeggiamenti di San Cataldo. Ha vinto il quartiere San Vito Lama Carelli con Angelo Conte e Francesco Quintano e Remi. Ma il palio non è solo agonismo fine a se stesso, che pure non guasta. Il palio è soprattutto un momento di socializzazione tra i vogatori, di unione, tra i quartieri cittadini, di festa per la gente di Taranto che da anni dal borgo e dalla città vecchia segue la gara che si svolge tra Mar Grande e Mar Piccolo circunnavigando l'isola. È un evento coinvolgente che vede direttamente impegnata l'amministrazione comunale. Questo è il momento dell'incontro dei vogatori con il sindaco Ezio Stefano nell'atrio del municipio ed anche la chiesa. Prima della partenza del palio l'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro ha ricevuto i rappresentanti dei rioni ai quali ha impartito la sua benedizione.